Ciao ragazzi e benvenuti su Castillo Drums. Oggi sono insieme a strumentimusicali.net per continuare la nostra serie sulla registrazione. Ho già fatto un video su come registrare la cassa, quali sono i microfoni perfetti per registrare la cassa, come l'assi microfono, come fare per riuscire ad avere una cassa bella potente con una bella punta e con una buona pancia. Oggi, e no ovviamente ve lo lascio qui sopra in una scheda. Oggi andiamo a vedere invece tutta la questione rullante. Qui dentro ho quattro, mi sembra, quattro microfoni, in realtà tre e mezzo perché uno l'ho comprato giusto perché mi andava per capire se funziona bene o no. Quale sarà? Perché è il microfono che voglio proprio provare. Gli altri due li conosco già abbastanza bene. Quel microfono lì è un microfono che costa poco. Ho detto, vabbè, pigliamolo già che ci siamo. Lo pigliamo, vediamo come funziona. E quindi oggi voglio farvi vedere il rullante come si microfona, come facciamo ad ottenere un suono di rullante super figo. Ovviamente il rullante deve essere accordato. Questa è la prima cosa, ragazzi, perché se un rullante è scordato non suonerà mai. Qui ci sono le mie robe solite che vabbè. Allora, molto bene, ci siamo. Per prima cosa, ecco, prima di tutto voglio prendervi un microfono importante che in realtà non l'ho mai utilizzato che è questo qui, il C3000 della AKG e questo è un microfono a condensatore e quindi voi mi direte cacchio, un microfono a condensatore? Che strano per un rullante. In realtà ci sta perché è da mettere sotto il rullante. Di solito si pensa sempre, ok, microfono per il rullante SM57 della Shure, che tra l'altro ho, quindi poi ve lo farò vedere. Però in realtà è giusto mettere il SM57 sopra il rullante, ma il microfono sotto il rullante, quello che prende la cordiera, è super super importante perché se no altrimenti sentiamo molto spesso. Invece con questo, col microfono sotto del rullante, riusciamo anche a prendere un po' di corpo del rullante, quindi tutta la parte della cordiera, che è molto importante perché fa il suono del rullante. Il rullante suona così perché c'è la cordiera, quindi se noi non microfoniamo la cordiera e ne perdiamo un bel pezzo. Ma che bello! Ma che figata! Vabbè, a parte che il microfono è veramente una bomba, guardate che bello! Stai zitto! Con la possibilità di qua di fare un'equalizzazione, cioè di mettere praticamente un filtro passa alto, quindi andrà a togliere tutta la parte delle frequenze basse che tanto non ci servono, in realtà. Non ho fatto partire la sigla oggi, vabbè non fa niente, oggi niente sigla. E invece di qua un'attimulazione, quindi 0 db oppure meno 10 db. Poi ha quest'asta qua, dove in pratica andiamo a mettergli il microfono sopra, così, così, com'è. Così. Vabbè, andiamo a mettergli i microfoni in qualche modo e poi dopo andiamo a posizionarlo sotto il rullante e vi faccio vedere anche come si posiziona. Questo quindi lo userò per tutti i microfoni. Oggi tutti i microfoni che vedremo andrò a sommarli a questo microfono da mettere sotto il rullante. Andiamo a vedere però i microfoni da mettere sopra il rullante. Come vi ho detto per prima cosa, ovviamente, no, non è vero, questa è la sorpresa per dopo. Rifaccio. Come vi ho detto, ragazzi, praticamente, ecco qua lo Shure SM57. Allora, questo è un microfono che conoscerete già di sicuro. È il microfono che tutti usano sul rullante, che tutti usano sulla chitarra, che tutti usano, dappertutto, sempre. Questo microfono è usato sempre. Quindi, la cosa che voglio fare oggi è confrontare questo microfono con tutti gli altri per capire qual è la differenza. Questo è un microfono che effettivamente, se lo metti sul rullante, funziona sempre. È super riconoscibile. Il suono che ti dà è buono. Quindi, andiamo a vederlo dopo. Shure SM57, lo appoggio un attimo a qua. Metto un po' a posto perché c'è già un casino pazzesco dopo tre minuti di video. Poi, andiamo a vedere l'Audix. Come sapete, a me piacciono un sacco gli Audix e questo i5 è quello che in realtà io utilizzo sempre sul rullante. Mi piace perché ha un suono un po' più caldo, eccetera, però non ho mai fatto un confronto con, ad esempio, il 57 della Shure. Quindi, voglio andare a vedere come si comporta quest'Audix perché, appunto, non so se vince uno o l'altro. Quale mi piace di più? Ovviamente, con l'Audix viene sempre dato anche il porta-Audix, il porta-microfono e basta. però io ce l'ho già, quindi non mi serve. Infine, ultimo microfono dell'unboxing è questo. È quello che ho comprato così a caso, cioè SL57C. Questo qua che costa poco, tipo un quarto degli altri. Quindi, ho detto, vabbè, proviamolo. La forma è molto simile a quella del 57 e c'è scritto anche 75. Quindi, vabbè, non so cosa dirvi su questo microfono, perché non l'ho mai provato. Quindi, andiamo a provare prima gli altri due e poi vediamo se... No, 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 non tocca a niente, Luca. Boh, facciamo questa prova. Per prima cosa, andiamo a montare il microfono sotto del rullante. Il microfono C3000 della KG, dobbiamo andarlo a posizionare, ovviamente, sotto il rullante, a circa 10 cm dalla pelle risonante del rullante, quindi alla cordiera. Lo colleghiamo, ricordiamoci di dargli la Phantom, perché è un microfono a condensatore, altrimenti non funziona, e siamo a posto. Ok, il microfono sotto è montato, mi raccomando, ragazzi, sempre condensatore, i microfoni sotto, perché riescono a prendere un po' di più, in generale, tutto il suono che c'è intorno. E non solo i suoni forti che gli arrivano. È vero che il rullante è un suono forte, anche la cordiera è un suono forte, però se riesce a prendere tutto l'insieme del suono, e magari anche se prende un po' in giro la cassa, eccetera, non vi preoccupate tanto poi al taglio delle basse, perché se voi gli mettete un dinamico, se voi prendete un 57 e lo mettete sotto il rullante, e lo vedo fare un sacco di volte, la cordiera ve la prende, ma si sentirà perché prenderà solo le parti più forti, quindi non riesce a prendere tutta la rotondità poi del suono della cordiera, eccetera, eccetera. Quindi sempre un microfono condensatore sotto il rullante. Sopra rullante invece microfono dinamico come questo, il 57, vado a togliere il mio Audix che uso di solito che poi riproveremo, ma lo proviamo nuovo perché magari potrebbe avere già qualche problemino, questo qua lo appoggio per terra così poi gli darò un calcio e vabbè pazienza si romperà. Andiamo a inserire il 57. Ecco, una cosa importante è la posizione del microfono. Il posizionamento del microfono deve non essere troppo vicino, non essere troppo lontano perché sennò non prende abbastanza, ma cercate di lasciare almeno tre dita, diciamo, tra la pelle e il microfono e il microfono non posizionatelo così, ma posizionatelo che punti il centro del rullante. Guardate dove sono i segni delle vostre bacchette sul rullante, e in base a dove sono i segni andrete a puntare il microfono proprio lì dove suonate, perché i segni sul rullante sono proprio la cosa perfetta per capire dove state suonando. Altra cosa, non mettetelo mai troppo troppo indietro perché sennò rischiate che vi prenda troppo il rim, ma mettetelo almeno due dita all'interno della pelle, così avete un suono pieno. Ovviamente più lo mettete verso il centro della pelle più il suono è pieno, più lo mettete verso l'esterno della pelle più il suono è secco. Proviamolo, vediamo com'è. La cosa che farò sempre per tutti i microfoni sarà farvi sentire tutta la batteria, poi vi faccio sentire per alcuni punti solo il 57 o solo il microfono sopra comunque, e poi ogni tanto vi faccio sentire anche la somma tra 57 e microfono sotto, per riuscire a capire bene come funziona il 57 da solo e come funziona con l'aggiunta del C3000. A presto! quindi di sicuro questo microfono qua è il microfono più riconoscibile probabilmente se voi sentite sette microfoni senza vederlo a un certo punto direte ah ok questo qui è l'SM57 perché è uno dei più classici uno dei più usati e funziona sempre bene se voi magari non sapete più di tanto microfoni non microfoni do quindi puoi andare a modificare il suono eccetera con un 57 vi troverete benissimo di sicuro a me piace molto il 57 lo uso tanto ma in realtà ogni tanto lo sento un po troppo secco come suono infatti sono sempre un po combattuto tra il 57 e l'Audix che è questo qua l'Audix i5 questi 5 qua adesso lo andiamo a sentire ha un suono molto simile al 57 ma un filino più caldo quindi è un po più corposo per questo forse mi piace di più però dico forse perché voglio fare questo confronto e poi andare a capire veramente se se è vero o se non è vero quindi montiamo montiamo l'Audix ovviamente stessa identica posizione per quanto riguarda questo microfono qua andiamo a a sentire poi ne parliamo ecco qua infatti l'Audix come avete potuto sentire sia con tutta la batteria sia proprio in solo questo microfono è più caldo è proprio diverso soprattutto una cosa che mi piace tanto è nelle ghost perché le ghost mi sembra siano proprio più appunto più calde più cicciose quindi mi piace forse di più no in realtà è sbagliato non mi piace di più questo microfono ma sono due microfoni da utilizzare secondo me per rullanti diversi o contesti diversi quindi se voi volete un microfono più secco più squillante e che buchi un po di più nella musica nella canzone la batteria allora forse 57 se ne volete uno che magari buchi un po meno quindi squilli un po meno ma sia un po più corposo allora adesso però andiamo a fare la prova del beh ringer quindi vediamo se questo microfonino qua da 20 25 euro una cosa del genere funziona bene oppure no andiamo a vedere proviamo microfonino qua da 20 25 euro allora devo ammettere che non pensavo suonasse così cioè visto il costo come vi dicevo prima pensavo che suonasse malissimo quasi non sembrasse un rullante in realtà non è così male devo ammettere che mi ha abbastanza stupito più che altro perché ok non è il 57 e non è neanche l'audix quelli funzionano meglio il suono di rullante è sicuramente migliore quindi se avete un pochettino più di budget vi consiglio assolutamente 57 o audix ma se non avete la possibilità di comprare un microfono un pochettino più costoso e volete ripiegare su questo qua fatelo perché è un comunque un buon microfono appunto per il costo che ha funziona sicuramente sicuramente bene adesso vi faccio sentire questi tre microfoni ovviamente sommati e non sommati come al solito con il c3000 della kg non vi metterò niente della batteria adesso vi faccio sentire solo il rullante e basta andrò a fare un po di rullate un po di groove eccetera ma voglio però farvi sentire la differenza tra questi tre microfoni messi proprio uno dopo l'altro andrò a fare un po di rullate un po di rullate un po di rullate un po d'hermante Ok ragazzi il video direi che può finire qua anche dopo questo confronto spero vi sia stato utile questo confronto magari stavate cercando un microfono per rullante o stavate cercando di capire più che altro come funziona microfonare rullante come si può microfono quali microfoni quanto costano eccetera sotto so vabbè tutte le cose se stavate cercando appunto questa cosa spero di esservi stato utile ovviamente come vi ho detto se avete un budget un pochettino più alto per l'acquisto di microfoni io vi consiglio di andare su questi due come vi ho detto volevo fare da tempo questa comparazione non l'ho mai fatta per capire quale microfono mi piace di più dei due in realtà ho capito che mi piacciono tutti e due questo più quando devo andare a suonare qualcosa con un rullante più secco che sia più presente questo quando devo avere un rullante un pochettino più aperto con un pochettino più di aria meno secco ma sicuramente più pancioso una cosa importantissima ragazzi è non sottovalutate mai il microfono sotto del rullante perché è importantissimo perché come avete sentito riesce a cambiare totalmente il suono di qualsiasi rullante il rullante che usato oggi è uno steel drum in ottone 14 per 6 e mezzo e ho deciso di usare questo perché è un rullante veramente bellissimo e per riuscire a fare una buona comparazione dei microfoni si ha bisogno di un buono strumento se no non si sentono veramente bene le differenze detto questo comunque la k g c 3000 è ottimo per riprendere tutta la cordia dalla parte sotto utilizzatelo assolutamente poi ve lo dico così dovete stare attenti alle fasi quando andate a mettere microfono sotto e microfono sopra però non vi sto a spiegare tutta la questione fasi perché sennò ci dovremmo stare qua altri 15 minuti però comunque l'unica cosa che vi dico è quando avete microfono sopra e microfono sotto andate sul vostro programma e cliccate il cambio di fase su uno dei due microfoni e poi sentite e sentite quale vi piace di più sicuramente se cambiate la fase di uno dei due microfoni qualcosa cambierà il suono potrà essere o più brutto o più bello ovviamente scegliete il suono che vi piace di più se invece il budget che avete è ristretto come vi ho detto questo beh ringer sl 75 c che sembra un sm 57 ma non lo è è un buon microfono per il costo come vi ho detto ve lo ripeto è comunque un buon microfono niente a paragone con gli altri due ovviamente ma comunque fa il suo quindi se non avete un budget eccessivo andate su questo vi lascio tutto in descrizione come descrizione vi lascio anche l'articolo che vi riporto al sito gastrope che completa tutto questo video e vi ricordo anche di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanellina se vi va di andare sui miei social instagram e facebook telegram cose varie eccetera 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 voglio ringraziare trumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di fare questo confronto e più che altro per avermi mandato i microfoni nuovi per fare questo confronto lo potevo fare con i microfoni vecchi ma sono usurati una marea di tempo che li uso quindi non sarebbe stata la stessa cosa e magari il suono non sarebbe stato lo stesso io vi saluto qua e noi ci vediamo al prossimo video ciao